Roberta studia e prende buoni voti. Valentina prende buoni voti ma non studia, Franco non prende buoni voti perché non studia. Ne consegue che le frasi gridate da mia moglie perché non studi, quando studi e se studiassi sono sempre precedute e seguite da un unico nome abbinabile ad esse, Franco. Spesso mi chiedo il ragazzo studierebbe di più se fosse meno incitato a studiare e altrettanto spesso mi rispondo no. Vederlo seduto in scrivania in camera sua con un libro aperto è un'illusione ottica, a meno che non si tratti del libro di Diabolic. voglio raccontarvi uno scontro pomeridiano tra Franco e mia moglie e cercherò di essere imparzialmente fedele alla realtà dei fatti come mio solito. erano le tre del pomeriggio stavo riposando avevo appena chiuso gli occhi quando mia moglie con un tempismo che solo lei possiede al mondo ha cominciato ad urlare. franco quando studi franco quando studi franco quando studi. dopo quando dopo quando dopo quando dopo ormai ci rivolgiamo a franco ripetendo tre volte la stessa domanda perché alle prime due non da risposta ho detto dopo e che vuol dire dopo e non vuol dire adesso e tu devi studiare adesso ma perché perché domani ti interrogano e tu non sai nulla e interrogano a me e chi devono interrogare sentiamo e siamo 35 e vanno ad interrogare proprio a me. ma che razza di ragionamento idiota è questo? ma insomma studia! non è un ragionamento idiota io non sono idiota hai capito? guarda che tu a me non ti rivolgi in quel modo hai capito hai capito lo dico io ma ah siamo all'insopportazione adesso sono io che non sopporto più te vedi di studiare invece di star senza far nulla sai che cosa vuol dire studiare? ma e no che non lo sai e visto tu non studi e non sai neppure che cosa significa studiare è un dovere per un cretino come te e lascia stare quella chitarra se no te la spacco in testa ma che spacchi tu? la chitarra spacco hai capito mettila via ma state zitta? zitta? zitta a me? come osi parlarmi in quel modo? prendi il libro di storia e mettiti a studiare uffa ma hai visto che ho aperto il libro ma che sei cieca? no non sono cieca e mango muta eh ti piacerebbe che fossi muta sono sicuro che franco non ha avuto il coraggio di rispondere ma io dal chiuso della mia camera si io non sono muta e quindi parlo io per te faccio tanti sacrifici io sono per te il tuo angelo costone chi ti aiuterebbe nello studio? chi ti obbligherebbe a studiare? chi ti guiderebbe un deficiente come te? ah maaa un imbecille come te senza essere guidato sai dove finirebbe? al riformatorio finirebbe finirebbe al riformatorio ecco dove finirebbe al riformatorio capisci che cos'è il riformatorio? lo capisci o non lo capisci? oh mamma e state zitta e qua non se può studiare ho dovuto alzarmi per togliere dalle grinfie di mia moglie franco perché l'avrebbe maciullato sono sincero l'ho fatto per spirito di conservazione per conservarmi franco il più illeso possibile perché se mi maciullano franco io poi chi picchio? grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti